Ciao a tutti ragazzi bentornati su minecraft sono bella faccia bentornati nella mia nuova vanilla come state come state come state come state come state spero tutto bene Allora oggi bando alle ciance voglio costruire la casa di bella faccia si perchè questa è la mia casa ma la casa pollo la casa con la mia faccia Cioè guardate è proprio così la faccia del pollo ok nello scorso episodio avevamo trovato un sacco di cose mamma mia quanto un sacco di diamanti il cuore del mare il cuore questo è il cuore che pulsa una mela dai le solite cose E quindi io ve lo chiedo super mi piace super iscrizione subito subitissimo perchè oggi dobbiamo creare la nostra casa pollesca Allora vediamo innanzitutto devo trovare delle cose mi sono fatto una pala in diamante devo assolutamente prendere cos'è sta roba cos'è ah la ghiaia Devo assolutamente eh si devo trovare la ghiaia devo prendere la ghiaia perchè dobbiamo fare la calce struzzo ragazzi dobbiamo fare eh si la calce struzzo quella che piace tanto agli struzzi No sto scherzando la calce struzzo perchè dobbiamo fare la skin di bella faccia bianca rossa e nera ok quindi ci servirà un sacco di calce struzzo E per fare la calce struzzo vi ricordate cosa serve per fare la calce struzzo eh o il calce struzzo tanto sbaglio sempre Allora serve la ghiaia e la sabbia e il colorante ok quindi adesso bella faccia raccoglierà un sacco di sabbia di calce struzzo proprio così ma qua cosa c'è ma che è la barriera corallina vicino a casa mia In fondo al mar c'è bella faccia che raccoglie tutti i blocchi di sabbia la 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 ok sabbia ne abbiamo quasi uno stack ghiaia serve più ghiaia sembra una canzone Più ghiaia più ghiaia ughiaia 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 e ughiaia e si oggi sono pazzo ragazzi Allora prendiamo questo zucchero questo zucchero filato che poi ci facciamo lo zucchero Allora abbiamo preso un sacco di cose allora abbiamo anche un sacco di fiori comunque sia per fortuna vicino a casa Che ci serviranno per fare i colori ok i colori 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 però se abbiamo i girasoli è meglio perché adesso vi faccio vedere Ok avete studiato lezioni di colori vediamo allora abbiamo non capisco più niente ok girasole ti prego abbiamo i fiori altri due Le peonie grande però servono i rosai no i rosai non li abbiamo non li abbiamo rosai Allora per fare la mia skin serve innanzitutto facciamo una cosa alla volta allora innanzitutto bella faccia Piglia un blocco di terra mettiamoci anche qua toh mettiamoci qua non ho l'accetta Accetta mi prendi in giro prendo questo che ho trovato che ho trovato nell'esplorazione dell'altra volta ok terra ci mettiamo I girasoli che girano intorno al sole farina d'ossa wow ne abbiamo un sacco non abbiamo più Non abbiamo più di farina d'ossa che è sta storia farina d'ossa l'ho usata tutta l'altra volta l'ho usata tutta assurdo Ok e facciamo così pam 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 ok e abbiamo preso un sacco di girasoli che li usiamo come colorante Ok adesso adesso peoni ce ne abbiamo colorante rosa io la mia skin non è rosa possiamo prendere i papaveri Il fiordalisio la margherite il dente di leone però mi servono i rosai ragazzi c'è per fare sta casa vedete i rosai? No non vedo i rosai bella faccia non vedo i rosai che è sta storia ma guarda un po guarda un po rosai I miei amati rosai Ah fantastico ecco con questi facciamo un sacco un sacco un sacco di colori un sacco di coloranti Perché con la farina d'ossa pam 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 vedete che bello Ok adesso mi servirebbe solo il nero il nero dei miei amici squid Squidopulus dove siete? Squidopulus ce n'è uno là Sto arrivando squid sto arrivando mi serve solo il tuo inchiostro Nulla di che ti devo solo uccidere sai com'è niente di personale Ma gli squid luminosi dove sono? Eh vorrei trovarli eh Venite qui squidini Eh squid Squid vieni qua dammi la sacca sto affogando Fantastico una sola ma che è Oh sto morendo Cavolo 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 Ok vivo vivo per un pelo Ok allora sacca di inchiostro abbiamo un sacco di nero Poi il rosso ce l'abbiamo ci serve il rosso e il bianco Eh il bianco ottimo lavoro Il bianco ma dai ma ci siamo dimenticati il bianco Vabbè comunque sia iniziamo a creare la polvere di calcestruzza Allora il giallo L'arancione anche ci serviva Ci servirebbe anche l'arancionopulus Allora ti cambi non è che voglio solo il giallo Qualcos'altro? Ok allora vediamo Eh ci serve rosso grande grazie Rosso Poi No 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 continua continua a switchare Il giallo Poi il nero mi servirebbe Grazie se vieni nero Ok nera Calcestruzzo nero Ne servirebbe un po' di più però eh L'arancione L'arancione Ah facciamo l'arancione Ecco perché non ce lo dava Perché non abbiamo l'arancione Eh grazie al cavolo eh Ok rosso Un altro po' Dai dai nero Ancora Poi sicuramente c'è un modo molto più efficiente Ma io voglio fare così Ok allora rosso ce l'abbiamo Io direi giallo e arancione Arancione ci serve Arancione grazie Arancione Arancione Ok fantastico E questi sono i blocchi Però dovrei farlo anche bianco Che non ce l'ho Ok dopo molto molto tempo Beh pecora Dopo molto tempo Finalmente possiamo fare questa farmettina Cioè neanche si può chiamare farmettina sta roba eh Allora togliamo un blocco qua Mettiamo l'acqua qua Penso che No non va bene assolutamente Così No dai acqua Acqua però non farmi fare queste figuracce Dai Dai Oh così vedi Brava Ok poi Qua di fianco Ci mettiamo invece Tutta la polvere di calcestruzzo Che vogliamo indurire Ok E la rompiamo Metti e rompi Ecco non proprio così Metti e rompi 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 No Metti e rompi Metti e rompi Metti e rompi Oh ma è possibile che non Oh dai Metti e rompi Oh Metti e rompi 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 Ok Stessa cosa con questa Metti e rompi Metti e rompi Oh si guardate Come modificare il calcestruzzo Proprio così Ok adesso indurirò Tutto il calcestruzzo E facciamo la casetta Di bella fazza Bam un sacco di bianco Ecco Ho ricreato anche una crafting Mi ero ripromesso Di non fare altre crafting table È più forte di me Non ce la posso fare ragazzi Ok fantastico Abbiamo raffinato Tutta la calce Ok ci siamo E direi che è arrivato il momento Di scegliere il posticino Per la nostra casettina Pollettina Vediamo allora Dove la possiamo fare Allora qua dietro Non c'è abbastanza spazio Qua Oh lì sopra Carina Mucca ti devi togliere Dalle scatole Ok tolgo tutto Questo terriccio E la faccio qua È fantastica Pala dove sei Ok tolgo questo E la facciamo qua Non so quanto farla grande Però voglio che sia La base operativa dei polli Questa che ti guardi Che ti guardi Eh Gira via Ok Allora 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 Eh prendiamo Il bianco Tutte le cose Che ci servono Per fare Il più bello di tutti Quindi bella faccia Allora direi Che Vediamo la mia faccia Allora Ho i bargigli Ok Allora Io direi di fare Un 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ok E qua quanto è Vediamo Quello potrebbe essere 9 1 2 9 Potrebbe essere 9 5 1 2 3 4 5 È troppo 1 2 1 2 3 1 2 3 Non è facile Fare la mia faccia Precisa Eh Poi vediamo Sopra c'ha Il becco Vediamo Il arancione Lo mettiamo sotto Quindi arancione Giallo Proviamo a fare così Arancionopulus Qua mettiamo Tutto il rosso Ti prego Fa che basti Basta Si Ci è bastato Ok Quindi arancione Boh Io non so ragazzi Se le proporzioni Sono giuste Poi le vediamo insieme Arancione Sopra Il nero 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Ok Stessa cosa anche di qua 1 2 3 1 2 3 No non ho il nero Maledetti squid Mi hanno mentito Ok E sopra Sopra altri 3 1 2 3 Mamma mia È gigante È gigante Ok Fammi vedere Se è giusto Fammi vedere Fammi vedere Fammi vedere È perfetto È perfetto I bargigli Sono come devono essere Quindi 5 Ok È fantastico E adesso inizio Ad avere un pochettino Di Di mancanza Di Delle mie Amiche Impalcature Allora ci manca Il nero Però sta venendo Bellissimo Dai Questa vanilla Sarà incredibile Ok Allora facciamo Altro nero Magari Minecraft Altro nero Ho detto Allora mettiamo giù Tutti i blocchi Che non ci servono Oh se qui avevo la sabbia No non ce l'avevo L'argine No Ce l'avevo Ce l'avevo qua le cose No Allora vediamo Sabbia Non ce l'ho più Non ho più niente Ok Finisco gli altri blocchi Va Allora Facciamo Che Creiamo anche Un bel po' Di calcestrussola Com'era Come Cioè senza crafting Io sono perso Com'è Com'è così Oh mio dio Com'è Com'è Non so fare Non so fare Com'è Com'è Ah così Ok Me ne dai un bel po' Allora Ok Allora Era così Proviamo a rifarla Così Così E così Ok Facciamo un po' Di calcestruzzo Grigio Grigio Tipo Così 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 Pochettino a caso Ecco qua A caso La cosa più bella del mondo Fare a caso Ecco Poi che ne so Un po' qua Poi qua altro bianco Ok Così Così Vediamo Ci piace Ci piace Ci piace Assai Così È un po' troppo Forse Ciao maialino Ti piace Fantastico Per fortuna Che vicina a casa mia È pieno di scheletri Ragazzi Altrimenti Non riuscirei A finire la casa Beccati questo Maledetto mostro Venite qui Mi serve tutta la farina D'ossa possibile Per finire la mia casa Grazie Anche un arco Non dovevi Troppo gentili Scheletri Non dovevate Ah altra farina d'ossa Oh Oh mio dio No Non provare a rompere La mia casa E non rompere neanche Le scatole Beccati questo Allora vorrei fare Una bella bussola Mamma mia C'ho un sacco di cose Ecco una bussola Ok Faccio la bussola Oh creeperino Salve buongiorno Vorrei fare la bussola Perché voglio fare La mappa Ok La mappa della mia casetta Vai Ecco qua Guardate Guardate Ah No c'è un ragno Lassopra Si vede la casa Si vede la casa Di bella faccia Voglio fare anche Un item frame Allora Facciamo un item frame Item frame Serve un pochettino Serve un pochettino Di legno Magari Pigliamo per fare L'item frame Bastonci Bastoncini Bastoncini Un po' di bastoncini Grazie eh Facciamo Item frame Cornice Che bello Ah Ecco qua E la mettiamo La mettiamo Per ora La mettiamo qua Dai Oh la mappa Della mia casa Con la testa Guardate Ho messo La calcestruzzo Diversa Anche sopra Ed ecco qua La casina Di bella faccia Davanti Fantastica E qua Come potete vedere Ho messo Tutto Il calcestruzzo Così Che bello Anche di qua Ecco lì Potevo metterne Un po' di più Anche di qua E poi si entra Facciamo che si entra Da qua Facciamo che si entra Da qua Permesso Se nessuno Qua dentro Spero di no Ok Perfetto Abbiamo fatto La casa Di bella faccia Ragazzi Presto La decoreremo Anche Spero che il video Vi sia piaciuto Da me è tutto E ci vediamo In un prossimo Fantastico video Ciao